Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti, ho trovato molto interessante, vi ringrazio per averci coinvolto, soprattutto i relatori che mi hanno preceduto. La città metropolitana di Bari, dico subito così apriamo un altro punto di discussione, paga un debito di partecipazione con la gente, quindi con i cittadini direttamente, perché nasce da una manovra di legge, non da un ragionamento di natura storica e politica che ha portato ai comuni, come invece è avvenuto per esempio a Bologna, a condividere determinate programmazioni, se non con una esperienza precedente dell'area vasta BAT 2015, che purtroppo come esperienza ha risposto a delle esigenze di carattere finanziario, cioè di programmazioni di fondi europei, peraltro esauritosi immediatamente nei primi due anni di programmazione del PORPULIA precedente. Oggi invece ci ritroviamo a ragionare in un modo diverso, quindi ci ritroviamo anche con una certa condivisione politica ad avviare l'elaborazione del piano strategico metropolitano, che però rischia di essere calato dall'alto se la politica non offre immediatamente ai cittadini delle risposte, delle proposte chiare, perché un'altra convinzione che abbiamo maturato è quella che non si possono creare dei forum o dei metodi di partecipazione e di organizzazione senza avere la capacità di proporre delle scelte. Scelte che poi verranno discusse dalla cittadinanza, verranno valutate dalla cittadinanza e poi devono essere anche modificate a seconda delle esigenze che vengono rappresentate. Ma una scelta politica forte, di visione del piano strategico metropolitano, che risponde alla fine a determinate problematiche, che deve essere necessariamente data e proposta al primo momento di confronto da partecipazione popolare. La città metropolitana di Bari, in questo momento sul territorio dell'ex provincia di Bari, non è ancora vista, non è ancora percepita dal cittadino come un ente che può far scattare un cambio di marcia. E pertanto vorrei condividere con voi questo pensiero che secondo me potrebbe essere utile per avviare una discussione politica con il cittadino, che non comprende il linguaggio tecnico che noi invece amiamo anche esporre, perché ormai calati nell'ambito di determinate logiche. È chiaro che noi veniamo, la città metropolitana di Bari rappresenta 41 comuni, per un totale di 1.200.000 abitanti, un territorio vastissimo, eterogeneo, che prevede all'interno anche delle aree omogenee. D'altro canto noi nello Statuto abbiamo considerato questo e abbiamo normato le cosiddette aree omogenee, quindi la possibilità di costituire all'interno dell'area metropolitana delle aree omogenee che rappresentino determinate esigenze. Noi abbiamo il Parco Nazionale dell'Alta Murgia all'interno, che è fortemente identitario rispetto a alcuni comuni. Abbiamo la Valle d'Itria, che ormai ha creato anche un profilo comunicativo, un'offerta turistica che si distacca completamente dalle altre comuni. Abbiamo dei comuni vicinissimi alla BAP, quindi vicinissimi alla storia di Federico II, ma comunque che hanno delle problematiche diverse dagli altri. Quindi io ritengo difficile, come consigliere delegato, che la città metropolitana sostituisca in toto le problematiche legate a delle fortissime identità locali, a percorsi storici che hanno contrassegnato lo sviluppo di alcune comunità e purtroppo il degrado di altre. E quindi abbiamo ritenuto da subito, col sindaco De Caro, che porge i suoi saluti, le scuse per non essere qui presente per evidenti altre problematiche e impegni istituzionali, abbiamo subito pensato che la città metropolitana debba dare delle risposte trasversali ai cittadini. Quindi che il piano strategico metropolitano debba affrontare delle problematiche che sono comuni a tutti, a volte alla regione, a volte al paese intero. Parliamo dei rifiuti, parliamo del problema dei trasporti, parliamo del problema legato, delle problematiche legate alla povertà. Queste sono problematiche comuni che inevitabilmente non solo uniscono le forti identità locali che sono presenti nella città metropolitana, ma possono dare immediate risposte ai cittadini. Il cittadino non comprende perché la città metropolitana nel pommetro dovrebbe utilizzare i fondi soltanto per il comune di Bari, tranne per l'asse 1, Presidente. Non lo comprenderà mai, usciranno tutta una serie di polemiche che forse non saremo neanche in grado di gestire. La gente però comprende che ci sono delle problematiche, come appunto i rifiuti, la povertà e altre problematiche, alle quali non può dare la risposta il singolo sindaco, perché sono problematiche elevate, grosse, così come il problema dell'attrattività economica. Oggi abbiamo un forte debito ed è un'altra questione emersa dalle interviste ai 41 sindaci che stiamo realizzando con il Formez. Un'altra problematica principale è quella di non comprendere il perché il territorio dell'area metropolitana barese non sia ancora sotto il profilo dell'attrattività economica, nonostante la presenza di infrastrutture importanti, importanti ancora al livello che avremmo voluto. E quindi la necessità anche di sviluppare lo sdenimento della burocrazia e attrarre il partenariato pubblico-privato che poi in tantissime situazioni, in tantissimi esempi, crea l'effettivo cambio di passo verso una pubblica amministrazione intelligente che ha la capacità di attrarre investimenti sul proprio territorio. Questo è il piano strategico metropolitano, deve tenere conto, deve tenere presente e si deve confrontare con i cittadini. I cittadini sapranno che ci sono comuni che hanno una forte identità e che si occuperanno del decoro urbano, della riqualificazione di una piazza, della riqualificazione di un quartiere, mentre la città metropolitana attraverso i sindaci e interpretando la disposizione normativa che ha voluto eliminare determinate poltrone politiche per mettere gli amministratori locali direttamente alla guida di un ente sovracomunale, deve rispondere a delle problematiche che oggi sono enormi. Problematiche, pensiamo al problema della legalità, che è un problema che è assolutamente diffuso nel nostro territorio e che va di pari passo con il contrasto alla povertà. Ho letto prima dell'Agenzia della Casa. L'Agenzia della Casa è necessariamente uno strumento che non può e non deve riguardare solo il Comune di Bari, qualora fosse finanziato a Pommetro. Deve essere un'agenzia strutturata nel Comune di Bari, perché il Comune di Bari è il Comune capofila, ma che deve essere in grado di creare una rete attraverso le porte uniche di accesso. Noi abbiamo 12 porte uniche di accesso per 12 ambiti sociali, che richiederà un'enorme opera di coordinamento e di collegamento. E un'ulteriore proposta che si potrebbe fare, potremmo studiare con l'Anci, è quella degli appalti. Noi adesso andremo ad affrontare gli appalti per la gestione di questi fondi. Negli appalti noi abbiamo due possibilità, o l'offerta economicamente più bassa, o l'offerta economicamente più vantaggiosa. Perché non inserire in un'offerta economicamente più vantaggiosa dei criteri guida che consentano alla stazione appaltante di richiedere al vincitore di realizzare altri interventi che vadano sulle autonomie locali, sfruttando la fortissima capacità di contrattazione che si viene a creare proprio grazie alla presenza del Comune capoluogo. Quindi una riflessione di studio e di metodo che non può fare la politica, ma deve venire anche da soluzioni tecniche, sulla capacità di sfruttare gli appalti che noi andremo a pubblicare con i Comuni metropolitani. E questa potrebbe essere una buona prassi da trasferire a tutti quanti come linea guida. Ultimo spunto di riflessione che noi vorremmo creare come visione dello stesso piano strategico metropolitano di Bari, il problema dei problemi, ovvero il talento. E quando parlo del talento non parlo solo della fuga dei cervelli, io parlo del talento inteso come capacità di creare innovazione in tutti i settori e in tutti i punti di forza che fanno capo al nostro territorio. Se noi ci poniamo il problema di attrarre e trattenere il talento presso il nostro territorio, credo che potremo anche calare dall'alto degli investimenti infrastrutturali o immateriali che possono rendere strategico per i portatori di innovazione restare su questo territorio o addirittura trasferirsi su questo territorio, considerando anche che la città metropolitana di Bari si affaccia sui cosiddetti paesi terzi o ex paesi terzi, che hanno proprio questo problema, la necessità di apprendere, di acquisire know-how, di acquisire formazione per sviluppare dei territori che comunque sono strettamente collegati con la città di Bari. Ecco le problematiche che stiamo affrontando, problematiche che sentiamo proprie e che comunque andranno al vaglio dei cittadini. Credo che in questo momento il debito di conoscenza e anche di riconoscenza, nella fase successiva, dei cittadini nei confronti delle città metropolitane, soprattutto a seguito della spesa dei fondi del Pommetro, sia un fattore di rischio che deve trasformarsi in punto di forza. Poi sta a noi, alla politica e ai tecnici, discutere su tutte le soluzioni per evitare che questa opportunità si trasformi in un boomerang al quale mi pare che ci siano stati dei riferimenti negli interventi precedenti. Mi pare di aver capito. Grazie. Grazie al sindaco Abaticchio.